Si è aperto ufficialmente domenica con una convocazione diocesana il nuovo anno catechistico. Il grande tema di riflessione e di approfondimento, soprattutto per gli itinerari formativi di adulti e giovani di quest'anno, è quello dello Spirito Santo. Prima di confluire tutti in cattedrale per la messa domenicale celebrata dal Cardinale, i catechisti si sono distribuiti in quattro chiese del Centro Storico. A San Bartolomeo, a cui si riferiscono le immagini, è stata illustrata la persona dello Spirito Santo come emerge nell'arte. A San Procolo è stata tenuta una catechesi sistematica sulla persona dello Spirito Santo. A San Benedetto si è parlato dello Spirito Santo così come emerge nel progetto catechistico italiano, mentre alla Mascarella si è parlato della vita nello Spirito Santo. Accompagnato all'altare da numerosi sacerdoti, l'arcivescovo ha poi preseduto in cattedrale la celebrazione della messa, con la quale ha voluto rinnovare l'impegno dei catechisti a servizio della evangelizzazione nelle parrocchie bolognesi. Quella di trasmettere il Vangelo, ha detto il Cardinale, non è un'azione puramente umana come potrebbe essere l'insegnamento di una materia a scuola, è invece un'azione che voi compite nello Spirito Santo. E dire nello Spirito Santo significa dire nella Chiesa, voi trasmettete la fede della Chiesa perché siete nello Spirito Santo. Da questa consapevolezza viene un grande incoraggiamento, perché dentro al cuore di chi ascolta la catechesi abita un catechista interiore. È in realtà lo Spirito Santo stesso che fa catechismo nel cuore, mentre voi fate risuonare la catechesi alle orecchie. La Segreteria dell'Ufficio Catechistico Diocesano ha consegnato ai catechisti il materiale per il percorso del nuovo anno pastorale, in particolare un CD-ROM che contiene schede sui catechismi CEI, approfondimenti sul tema, nell'arte e nella letteratura. Il Cardinale Caffarra terrà un intervento sabato prossimo al Congresso Internazionale dei Catechisti, che avrà luogo sabato e domenica a Roma in occasione dell'Anno della Fede e che culminerà con la messa celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro.